Ufficio Collocamento Plastica Dica? Sono una crema solare finita e voglio cambiare lavoro. A chi lo dice? Ma è stata messa nel cestino giusto? Certo. Svuotata? Ovvio. Lavata? Non serve. Ok, e cosa vorrebbe diventare? Un secchiello da mare. Benissimo, si accomodi tra le nuove risorse e saluti i bambini. Fai cambiare vita alla plastica. Differenzia correttamente e aiuterà il Consorzio Nazionale Corepla a trasformare gli imballaggi di plastica in nuovi oggetti utili. Scopri di più su corepla.it, dove tu vedi solo plastica. C'è già una risorsa. Grazie.